Sì, ecco qua. Domanda a entrambi. Dalic, qual è l'atmosfera nella squadra prima della partita di domanda? Per Ivan Perisic, come ti senti prima di domani? Questa partita sarà molto importante già prima dell'inizio del torneo perché vorrete passare la fase a gruppi. Sì, stiamo cercando di pensare positivo, di non farci scoraggiare della sconfitta contro la Spagna. L'atmosfera è positiva, i giocatori sono consapevoli della situazione in cui siamo, dobbiamo giocare meglio rispetto alla prima partita domani e quindi sono felice di tutto. In realtà siamo preparati molto bene per questa partita, abbiamo fatto tutta la preparazione nella rifinitura di oggi e Nikola Vlasic non farà parte della squadra. e mi dispiace che non si è riuscito a recuperare il 100%. C'è stato un altro problema, quindi dopo la risonanza magnetica è tornato a casa, ma per quanto riguarda gli altri, sono tutti pronti e non vediamo l'ora di partire. Buonasera, sì mi sento bene, non vedo l'ora che si giochi domani per correggere tutto ciò che ha dato male nella prima partita. prossima domanda per favore. Seconda domanda per Dalic, ci saranno dei cambiamenti alla formazione all'undici di partenza, come sarà un po' diverso, sarà più magari offensivo rispetto alla prima partita? L'Albania non è un avversario della stessa qualità della Spagna, ma comunque merita il nostro rispetto. Ci aspettiamo un avversario molto tosto, ben organizzato, quindi dobbiamo essere molto pazienti, molto attenti in questa partita. Sappiamo che il nostro obiettivo principale è vincere e giocheremo magari in maniera un pochino più offensiva, cercheremo anche di essere migliore rispetto a quello che mi ha fatto vedere contro la Spagna, cercando di sfruttare più le nostre occasioni, cercando di fare più palla, ma dobbiamo essere anche più efficaci, più concreti, più cinici, più aggressivi, specialmente in questa parte della partita e dobbiamo giocare anche affrontando il nostro avversario a viso aperto. Sì, ci saranno dei cambiamenti, ma adesso vedrete domani e vedrete poi quale sarà il nostro obiettivo, il nostro obiettivo e siamo comunque pronti per la partita di domani. Ivan, credo che tu partirai dal primo minuto, non deve essere così, questo è stato concordato, far parte oggi, insomma, magari prima ci poteva essere dei dubbi tra me e Luca, Kovacic, quindi non cambia nulla in realtà nella squadra. Ciao Ivan, penso che tu abbia analizzato la partita scorsa, quindi secondo te, diciamo, come vedi l'Albania, diciamo, qual è il loro più grande punto di forza e punto debole? Beh, sono una bella squadra, sono comportati molto bene nelle qualificazioni, dobbiamo aggiustare dei dettagli tra oggi e domani, ma li vediamo per noi. Una squadra molto potente che corre da tutto sul campo, quindi dobbiamo approcciarli allo stesso modo, sarà difficile per noi dal primo minuto, ma dobbiamo andare, diciamo, preparati e dare il 100%. Ciao a tutti, Ivan ha detto che dobbiamo vincere, Andrej Kramaric ha detto lo stesso, la partita contro l'Italia, dovete essere, diciamo, furbi a rialentare il tempo, cercherete anche di farlo domani, insomma, quindi quanta pazienza ci farà, quanto sarà importante la pazienza, se tutto non andrà bene fino al primo minuto, quindi quanta pazienza ci vorrà, quanto sarà importante essere pazienti per avere le possibilità. Sì, dobbiamo essere pazienti, dobbiamo cominciare in maniera diversa dal primo minuto, non come siamo partiti con la Spagna. Noi pensiamo di magari vedere come va il primo tempo e poi magari comunque aspettare le nostre opportunità, a vedere anche con le sostituzioni, insomma, quindi cerchiamo di riettificare ciò che abbiamo fatto nella prima partita. Prossima domanda. Quarta fila al centro. Buonasera signor Dallic, buonasera per Ivan. Se la Croazia dovesse passare agli ottavi, potresti raggiungere Dario Cernan come numero di presenze in nazionali, che è uno dei più grandi della storia della Croazia. Credi che... C'è un giocatore che possa raggiungere Luca Modric in termini di presenza? Beh, ho cominciato a giocare in nazionali nel 2011, ho sempre preso anno dopo anno, mi sono sempre concentrato sulla partita, non ho mai visto il numero di presenze in nazionale, non mi ha mai importato tantissimo. Ho sempre cercato di fare bene e so che Luca ha avuto una carriera molto oggi, è ancora qui con noi, quindi lavoriamo tutti i giorni insieme, cerchiamo di migliorare ogni giorno e non è importante quante presenze abbiamo. Per quanto riguarda Luca, non so se nessuno riuscirà a raggiungere il suo numero, ma abbiamo un paio di persone che hanno debuttato molto giovani e quindi forse, chissà, con la Nations League e con il maggior numero di partite probabilmente possono raggiungere la nostra età mentre giocano e possono avere anche più presenze di lui, certo. La domanda per l'allenatore. Dopo l'abbiamo partita, crede che tra i giocatori ci sia la necessità di dimostrare il proprio valore e un senso di vendetta perché tanti osservatori adesso scartano un po' la vostra squadra da questa competizione tra le favorite, diciamo? Beh, non è stata una cosa bella da vedere, diciamo, non abbiamo avuto delle buone sensazioni, ma siamo sempre, diciamo, la cenerentola, no, non siamo mai tra i favoriti e nessuno ha mai creduto in noi. Negli ultimi sei anni comunque abbiamo avuto tre medaglie, siamo finiti tre volte sul podio, quindi dopo la Francia, la nostra nazionale, diciamo, dirò sempre, è la squadra più vincente. Quindi la Croazia, diciamo, si è guadagnata rispetto di tutto per ciò che è riuscita a fare. Siamo finiti tre volte sul podio in competizioni internazionali, ma comunque siamo sempre considerati, diciamo, la cenerentola dei tornei. Siamo piccoli, ma siamo coraggiosi, combattiamo. Siamo una nazione che si sente orgogliosa di se stessa. I risultati mostrano che sono meglio di tante altre nazionali. Adesso, però, dopo questa prima sconfitta, è chiaro che magari c'è molto pessimismo e negatività, ma come ha detto anche Ivan, andiamo avanti partita a partita, cerchiamo di fare il nostro meglio, cerchiamo di dare il 100%, non vediamo l'ora di giocare domani, ma le sconfitte, diciamo, non sono le cose più importanti. Noi siamo quello che siamo e ciò che abbiamo fatto negli ultimi sei, sette anni dobbiamo guardarlo con orgoglio. La Croazia è comunque meglio di ciò che si dice e si pensa di lei in pubblico. Buonasera. Vorrei chiedere al mister Dalic Quanto, diciamo, la gerarchia del suo sistema è importante? Cioè, quindi, il ruolo, la posizione del giocatore. Cioè, quindi, quanto è importante questa gerarchia? Abbiamo raggiunto tutto grazie all'unità, a questa gerarchia. La prima cosa che abbiamo sono i giocatori che si rispettano l'altro. Certo, poi c'è anche tanto talento, ma c'è anche, diciamo, una specie di gerarchia. Per me, come mister di questa squadra, è molto importante. E quindi è anche molto importante valorizzare tutti i giocatori, appunto. Quale sarà la chiave della partita di domani? Quindi, la prima cosa che ha detto è la pazienza. Sì, non possiamo perdere la testa, la concentrazione in ogni momento. Dobbiamo essere sul pezzo fino alla fine della partita, controllare tutte le situazioni e cercare di comportarci nel miglior modo possibile. Ma ogni volta non possiamo perdere la testa, appunto, come ho detto, e cercare di forzare. Ma dobbiamo usare la nostra qualità, il nostro modo di gioco, cercare di... di giocare, come sappiamo, perché domani dobbiamo vincere, dobbiamo prendere questi tre punti. Tuttavia, la pazienza domani sarà la chiave. Anche l'essere vicini, l'essere l'unione, l'approccio che ci garantirà sin dal primo minuto di essere competitivi è di non perdere la testa, in sintesi. Dalic. Dopo la conferenza stampa di Petkovic si è parlato molto di ciò che è stato detto, Bruno Petkovic, se partirà o no. Beh, non c'è bisogno di parlare di questo. Non c'è bisogno di parlarne più di quanto merita. la situazione è molto bella, ne abbiamo parlato, abbiamo parlato estensivamente anche con Bruno, tutto va bene, insomma, quindi tutto è chiarito e quindi, insomma, vedremo un po' quali saranno le scelte tattiche. Domani vedrete se Bruno Petkovic giocherà dal primo minuto o no. È un giocatore molto importante per noi. Non era necessario creare questa tensione e metterci addosso ancora più pressione, ma il mio stile di comunicazione è che tutte le volte vogliono avere questa grande atmosfera che abbiamo e quindi non c'è bisogno che la stampa diciamo ci ricami sopra su cose che vengono dette o non dette. Sappiamo qual è la gerarchia e sappiamo ciò che sappiamo quello che sappiamo fare in nazionale. Ivan, ieri nella conferenza stampa Andrej Kramaric ha detto quanto era rumoroso lo stadio. Cosa ti aspetti domani? Cosa ti aspetti dai tifosi croati? Quanto è importante per questo? Beh, sì, questo è uno degli stadio più grandi della Germania. Ha giocato qua tante volte. Non è sempre stato uno stadio molto caldo. molta gente viene molti albanesi ci saranno quindi mi aspetto una grandissima atmosfera cercheremo di vincere e cercheremo di fare il nostro meglio per farcela. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. Grazie. Questa è stata l'ultima attività media per il giorno. Grazie ci vediamo domani. Grazie mille.